L'Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata ha ospitato la presentazione del progetto Premia, il processo di Empowerment per immigrati analfabeti realizzato dall'Axim e cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno. Il percorso di apprendimento linguistico proposto è stato rivolto ad immigrati con riferimento ad analfabeti. Destinatari dei corsi sono stati oltre 150 cittadini di paesi terzi, regolarmente presenti sui territori di Macerata e dintorni, tra uomini, donne e bambini. Nel mese di gennaio e nei mesi successivi si sono concretizzate le attività corsuali. 200 ore di corso, i corsi si sono svolti, 3 nella sede del comune di Corridonia, 2 a Macerata, 1 a Civita Nova Marche, 1 a Porto Recanati e l'ultimo a Recanati. Il percorso si è concluso il 31 maggio e il 3 giugno i corsisti hanno sostenuto l'esame Celi per il livello A1 del quadro comune europeo di riferimento della conoscenza della lingua italiana. Gli insegnamenti sono stati sviluppati secondo un metodo didattico narrativo che ha permesso la codivisione in classe di esperienze di vita degli iscritti ai corsi, volta a un apprendimento della lingua italiana e a favorire una coesione sociale tra i cittadini immigrati e italiani. La ricerca sociale ci stimola verso l'approccio narrativo perché è indubbiamente il mezzo migliore per poter far emergere l'individualità, cioè quella che si chiama la soggettività, insomma l'insieme delle conoscenze sociali, personali e culturali, e su questo agire in termini interculturali e intersoggettivi. La strada secondo me indicata da Premia è una strada perfetta, ideale, perché soprattutto introduce questo metodo della narrazione. Integrarsi vuol dire anche riuscire a far interagire il proprio mondo con il mondo degli altri, a narrarsi in piena libertà linguistica e anche a riuscire a far entrare, come dire, nella lingua italiana la propria lingua, che è anche la lingua degli affetti, della comunicazione intima, della sensibilità personale.